Una tragica fatalità o un destino particolarmente crudele perché sarebbe bastato un secondo prima o dopo per evitare una tragedia. Invece Shu Baojiao, 45 anni, livornese, è stata centrata in pieno da un pezzo di cemento crollato da questo palazzo in via Buontalenti accanto alla centralissima piazza della Repubblica. L'arredo è uno di quelli che adornano le finestre. Intorno alle 18 di ieri si è staccato colpendo la donna in testa. I testimoni parlano di un forte rumore improvviso e poi la donna riversa sul marciapiede in una pozza di sangue. Durante i soccorsi non ha mai ripreso conoscenza la centrale operativa del 118 e ha inviato in via Buontalenti un'ambulanza della Misericordia di Livorno che ha trasportato la donna al pronto soccorso dove è arrivata in coma. E purtroppo gli ultimi aggiornamenti che arrivano sulle condizioni della donna non sono per niente incoraggianti. La prognosi è ovviamente riservata ma i medici che la stanno curando definiscono le sue condizioni gravissime. La donna è tenuta in coma farmacologico. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia municipale quella pietra potrebbe pesare intorno ai 10 kg. I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni accertamenti sull'immobile e secondo una prima ipotesi il crollo è stato imputato all'età avanzata dell'edificio. Non aprire fino a chi non c'è il conteggio che mette in sicurezza il palazzo. Il classico mantovana diciamo è come si dice noi. Devono metterlo in sicurezza. Devono mettere in sicurezza il palazzo prima di poter aprire il negozio.